Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi l'ospite in studio è Giuseppe Schena, il sindaco di Voltago. Grazie a voi, buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Partirei subito dalle questioni molto pratiche. I cantieri nel vostro territorio, anche quelli post Vaia, che immagino con tutti gli alberi sono caduti. Sì, indubbiamente. I cantieri Vaia avevamo tre cantieri grossi. Iniziamo così salendo da Voltago, 380 mila euro sul giro della Gioa. Abbiamo avuto un'interruzione iniziale all'arrivo del primo escavatore per l'accesso al cantiere, e un primo sbosco. Abbiamo avuto delle segnalazioni ai cittadini che ponevano l'attenzione al passaggio dei mezzi vicino alle proprie abitazioni, essendo così proprio limitro, molto vicine. Allora con la direzione lavoro abbiamo sospeso il cantiere e stiamo valutando ora una via alternativa, quindi un'occupazione temporale dei terreni appena dopo il ponte, dove c'è la gabina dell'Enel, per poi accedere al cantiere. È soggetto a trattore e al sindaco, quindi di conseguenza sto anche sentendo un legale per far sì che facciamo le cose fatte bene in regola, che una volta che andiamo a fare l'occupazione possiamo finire il cantiere. Quindi i lavori penso che dopo le ferie di agosto possano iniziare, me lo auguro davvero. Successivamente saliamo, c'era la messa in sicurezza della fallesia di Branto, il lavoro è stato ultimato, un bel lavoro. Poi entrando a Domadore c'è un cantiere della forestale, era circa un milione e tre, mi sembra. Lì stanno facendo il saldo avanzamento lavori, ho parlato con il direttore lavori, mi ha detto che in settimana sa darmi delle notizie inerenti agli avanzi che ci sono e così molti cittadini segnalano già la mancanza delle canalette. Le avevano installate e poi aveva fatto l'asfalto. L'asfalto in base, come ho detto, all'avanzo che c'è da questo saldo. Poi è partito il lavoro sulla strada del poi, praticamente è stato fatto il primo intervento dopo la baita del bianco, la sistemazione della buca che si era venuta a creare, successivamente dopo il ponte è in corso anche un monitoraggio del muro, è un muro a gravità, è quindi stato bollato con dei sensori e viene valutato lo spostamento. Al momento non sembra di essere particolare preoccupazione, logicamente se le bolle si sposteranno spiombando di più il muro dovranno pensare a fare qualche opera di tirantaggio. Appena dopo questo muro è stata fatta una scogliera con dei micropali per tenere sulla strada. Anche qui, finito questo intervento, saldo avanzamento lavori, vediamo i soldi che avanzano e andiamo avanti verso il Versagala, diciamo che è lo scollinamento che segna il confine che arriva a monte. Altri lavori che abbiamo, abbiamo con l'annualità 2018 dei fondi di confine, la sistemazione della salita di Biasi, praticamente lì c'è stata una piccola sospensione temporanea perché il lavoro prevedeva il rifacimento dei gradini che salgono, quindi con i cubetti di porfido, andando così ad ultimare il primo straggio che aveva stato fatto alto, ma non era stata contemplata la sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto. Allora, onde evitare che ci troviamo tra qualche mese, tra un anno, con delle rupture dell'acquedotto e quindi dover intervenire e spaccare l'opera appena fatta, abbiamo sospeso un attimo i lavori, chiesto al DSP la sostituzione della tubazione e molto gentilmente sono venuti e dove avremmo di ultimare questo lavoro. Poi dovrebbe partire il lavoro di Struzza, cui famosi erano, mi sembra, 86 mila euro dal Ministero, una regimazione idraulica della via di Struzza è già stata parzialmente fatta, praticamente diciamo che dove c'è, per chi conosce la zona, sempre parlo dei miei cittadini, insomma, dove c'è il Ponte della Giola, diciamo, è stato fatto un drenaggio per andare a togliere delle acque che arrivavano sullo SP 347 e poi scendevano e andavano sulla zona sopra via Roma. Poi viene rifatto il muro, il muro, diciamo, dal Ponte della Giola in su. Quindi così anche via Struzza credo che possiamo dire che è quasi ultimata da un punto di vista di infrastrutture e di viabilità. Ecco, poi naturalmente questi sono tutti i lavori che sono partiti, che stanno partendo, risorse già trovate in precedenza e poi naturalmente i comuni sono sempre tenuti a guardare un po' avanti, a cercare nuovi fondi, nuove opportunità. Sì, ma indubbiamente bisogna cercare i fondi e al contempo bisogna fare una valutazione molto attenta che è quella di dire, devo puntare di fondi nel mio comune che la mia struttura sa spendere i soldi, perché se no mi trovo ad un certo punto che se mi manca la struttura teniamo i soldi fermi. Allora a quel punto là è meglio che vadano dove le strutture sono con un numero maggiore di organico e danno una capacità di spesa maggiore. Comunque ad ogni modo abbiamo un fondo delle aree interne di 220 mila euro, cantiere abilità mi sembra nel 2025 e abbiamo deciso, abbiamo proposto un intervento di messa in sicurezza nella località Corone, come abbiamo scritto sul programma elettorale, praticamente questo cantiere velocemente in sintesi, scendendo dalla SP verso Argo, arriviamo all'intersezione della rotizzazione delle Corone, parte un marciapiede, fa il giro della prima casa, prosegue fino all'intersezione con la zona industriale e lì viene anche fatta un'area sosta per gli autobus, per anche questo, perché io mi sono trovato in molte situazioni che arrivavo in discesa, come ho detto prima, dove l'autobus si ferma attualmente e quindi vicino all'entrata della rotizzazione delle Corone e molti fanno un sorpasso azzanzato su una curva e rischi dovrebbero lì di fare un frontale, quindi facciamo questa messa in sicurezza ed in più andiamo ad allargare l'accesso alla zona industriale perché insomma lì transitano anche mezzi pesanti. Il progetto è stato accolto, quindi evidentemente le caratteristiche richieste soddisfavano le esigenze e vediamo insomma nel 2025 di Cantivari questa opera, mi sembra che il soggetto attuatore in questo campo sia la provincia comunque. Poi, area vasta, fondi di area vasta, lì in origine il comune di Voltaro comunque ha preso 1.200.000 euro e credo che questo sia comunque un successo anche dall'arrivo di fondi Pimodi Branchieri poi è tramontato in fondi area vasta, l'oltrego non è arrivato niente fino ad adesso. Allora, all'inizio volevamo fare la ristiturazione del caserma della forestale e adibirla a B&B. Poi abbiamo fatto un approfondimento tecnico con l'ufficio tecnico comunale, con i fondi comuni confinati e ci sono diversi particolari che rischiano in questo caso di lasciare i soldi fermi. Quindi ho chiesto una convocazione alla conferenza dei sindaci per la settimana prossima e dove chiederò di spostare i soldi a Malgalosca. Malgalosca per anche questa scelta, bisogna anche motivarla nei confronti dei cittadini perché poi immagino che molti anche di Voltaro dicano che potremmo fare anche qualcosa a Voltaro. Quindi adesso facciamo un attimo il punto della situazione e togliamo ogni dubbio. Allora, praticamente Malgalosca, avevamo dato un incarico, avevamo un dottore forestale per una riqualificazione, uno studio di fattibilità. L'implanto aveva circa di 1.300.000 euro. Questo prevedeva l'intero impanto speso nella zona di Malgalosca senza mettere in mano la strada. Quindi prendevi lo stallone, lo dividevi in tre, bestie, salamogitura, lavorazione e formaggi, poi un mini caseificio e la vendita presso la casera. Poi l'interramento della linea dell'acquedotto dell'acqua che parte da una vasca al primo nevario fino alla maglia e poi l'interramento della linea che scende dal rifugio per l'energia elettrica. Allora, abbiamo deciso di fare questa scelta e di dire è inutile che noi spendiamo un milione e due tutto lassù e magari abbiamo un'incognita strada che con un'altra emergenza meteo e rischiamo che la strada collassi e non abbiamo più accesso alla zona. Quindi abbiamo deciso di fare 350, vediamo i soldi che occorrono sulla strada, quindi una sistemazione della strada, e poi spendiamo il resto per riqualificare la maglia e intanto adibirla dal peggio per gli animali, quelli senza latte, diciamo. Un domani se arriva un giovane e fa un PSR e può attrezzarsi la zona, fai un PSR e mi viene da dire un contratto a 12 anni, due annualità, fa lui l'investimento e può fare la lavorazione a formaggi. Magalosca abbiamo già il rifugio Scampa, abbiamo un intervento con i fondi di area vasta che penso lo facciano quest'anno di riatrezzature della Friata Stella Alpina e in più con questa pianificazione di area vasta si è deciso di prendere un accordo politico sulla prossima pianificazione. Cosa significa? Noi andiamo a fare, abbiamo messo la pente dei soldi, come la conferenza dei sindaci, dove andiamo a fare dei progetti esecutivi per quanto riguarda le piste ciclabili e di percorso in quota. Voltago ha proposto una pista ciclabile percorso in quota ciclo soluzionistico che parte da Romalore, Margaluna, Margalosca, Scendi Valdistopei, Marganiardi Inter e Marganiardo Efore. Quindi credo che in ottica futura è di un finanziamento, così sulle cante al momento poi bisognerà rifare la discussione, di 500 mila euro. Quindi credo che così chiudiamo un anello, andiamo a fare un investimento rendendo una zona con un'attrattiva turistica che in questo momento c'è solamente grazie al rifugio Scampa e alla ferrata stella alpina e credo fondamentalmente che le bike per il futuro sono il futuro. Con questo voglio dire che adesso abbiamo speso, spenderemo un milione e due a fare assene e andiamo così a sbloccare due annualità di fondi di confine a Voltago, faremo la nostra valutazione su come spenderle. Quindi le prossime due annualità di fondi di confine vanno spese a Voltago quindi un milione di euro. Ieri abbiamo fatto giunta, posso dire come abbiamo destinato i fondi FCC 500 mila di questa annualità. Allora è arrivata una nota da parte del Fondo Comuni Confinanti dove diceva che parte di questi fondi potevano andare a vimpinguare i quadri economici dell'annualità 2021 e 2020. Questo perché con l'aumento dei prezzi vogliamo cantierare subito le opere. Ricordo che il fondo, mi sembra forse del 2019, mi sembra forse sì, del rifacimento del municipio, il tetto e delle piccole opere interne anche da adibire il municipio con l'ascensore che anche l'ascensore è stato appaltato, era andata una gara adesanta. Quindi qui voglio ringraziare proprio il fondo per questa misura che ha scelto. Detto questo, abbiamo 209 mila euro quello che vanno a vimpinguare i quadri economici della normalità scorsa e ce ne avanzano 291 mila. Abbiamo deciso di fare un parcheggio di Gomang, di Gomang è una frazione del comune, abbiamo l'afflusso di molti turisti durante la stagione estiva, viaggianti alle seconde case, c'è una piccola piazzetta che è sempre congestionata dal traffico. Quindi abbiamo deciso di fare questo intervento ed in più sistemare il campetto in via degli Alpini che è praticamente una zona limite fra Voltago sotto l'abitato andando verso i magazzini comunali e è molto utilizzata dai giovani quindi dare un po' di decorre ai giovani e puntare anche qui un po' sullo sprint lasciargli un posto che possano stare lì tranquilli credo sia dovrebbero fare anche questo. Tra l'altro avete insomma anche una realtà sportiva con una bella storia, no? Sì, abbiamo una realtà sportiva con una bella storia abbiamo il calcio Voltago che insomma grazie al presidente Marlin e il suo impegno perché alla fine aveva una persona che si impegna molto ha anche appuntato due titoli il campionato Grandino a Voltago in più abbiamo possiamo dire che a settembre la prima domenica di settembre ci sarà la Vapiamo a Viva secondo me è un ragazzo a cui tutti noi avevamo molto legati e io ci tengo a dire anche qui in questa sala cosa penso che Alan quando se ne è andato è riuscito a mettere insieme tutte le associazioni perché lo volevano ricordare da qui è partita l'idea della nostra amministrazione di poter creare un tavolo di condannamento con le associazioni e plantare vita al nostro paese poi abbiamo il gruppo spantivo Farsenè a 9 centenari il gruppo spantivo Farsenè è tornato diciamo dopo il Covid a rifare tutte le sue manifestazioni hanno fatto San Giovanni tradizionale Fugli San Giovanni poi faranno San Fortunazza una messa alpina a Margalosca in quota e poi il classico paranzo di montagna poi faranno il torneo di calcio e arriveremo al 10 con anche la Farsenè una gara di corso al 10 di settembre e tre giorni di festa per il centenario ecco chiuderei molto brevemente con la sfera del sociale perché naturalmente ci sono nei piccoli paesi tutta una serie di attività che aiutano un po' diciamo le famiglie anche a rimanere sì ovviamente lavorare sul sociale significa non solamente parlare in campagna elettorale di andare parliamo sempre di spopolamento contestare lo spopolamento e lo utilizziamo molto comunque come volano in campagna elettorale e invece abbiamo deciso proprio di dedicare molta attenzione a questo siamo partiti con il centro estivo qui voglio ringraziare l'associazione attiva Menta Aguandino che gestisce già alcuni centri estivi comunque nella vallata dell'Aguandino li ho contattati e abbiamo fatto l'affidamento in comodato d'uso gratuito dell'asilo e di un piano della Paolo Mosca per fare il centro estivo ci sono 5-25 bambini a settimana sono passato anche ieri a fargli visita e sono contenti gli ho chiesto ai bambini gli ho chiesto allora ve lo facciamo anche il prossimo anno e mi hanno detto un sì proprio bello caldo e quindi anche soddisfazione poi stiamo lavorando per mettere il bilancio dei soldi per fare una tantum per il bonus bebè quindi partire subito da quest'anno anche per rispetto di queste famiglie che quest'anno hanno dato la luce dei figli che al giorno d'oggi davvero con la crisi che c'è ognuno credo abbia i suoi pensieri quindi bisogna valutare anche questo e poi stiamo valutando il servizio dopo scuola abbiamo fatto una manifestazione di interesse abbiamo circa mi sembra 7-8 bambini e vogliamo arrivare almeno a 12 per avere una sostenibilità economica se no davvero siamo in difficoltà quindi l'appello che faccio è anche quello di dire alle famiglie che hanno conosciuto e hanno vissuto in questo mese di giugno il centro estivo se siete interessati sentiamoci parliamo che comunque siamo in centro estivo anche quello inquadrato sullo sprint il dopo scuola inquadrato sullo sprint anche questo dal punto di vista degli anziani vogliamo fare un incontro con i pensionati il Viva Vicky che è il consigliere con la delega ne parleremo anche questa sera che abbiamo per il consiglio da valutare un attimo di fare questo incontro per capire se c'è la possibilità di interessamento di fare come un piccolo circolo Hauser e poter collaborare anche con loro strutture immobili comunali ne abbiamo anche per andare in utilizzo cioè un esempio della scuola Paolo Mosca un intervento di mi sembra 4-5 anni fa se non utilizzi le strutture vanno in deperimento cioè c'è già una risalita dell'umido dentro che bisogna fare una manutenzione all'anno bisogna utilizzare le strutture e abbiamo bisogno di persone che ci diano una mano grazie mille quindi per essere stato con noi grazie a voi e ci vediamo al prossimo saluto a tutti i miei concittadini buona serata buona serata e buona continuazione grazie a tutti i miei